L'obiettivo fondamentalmente si è concentrato nell'andare a ripristinare un pozzo in concessione ad Alfa, denominato Tarabara 3, si tratta di un pozzo profondo di circa 30 metri, un intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino appieno di quello che è il rendimento idraulico. A seguito di una serie di studi che vanno praticamente dalle analisi, anche dal punto di vista chimico, fisico, ma anche dal punto di vista del rendimento idraulico, sono stati analizzati una serie di fattori e in funzione di questo poi è stato investito proprio nel capitale fondamentalmente per cercare di ripristinare al pieno quello che è la funzionalità del pozzo che prima non veniva adoperato fondamentalmente. L'intervento è consistito nel rifacimento di quello che è la colonna, quindi un ritubaggio completo, un rifacimento intero del piping, una nuova elettrocompa di performante di ultima generazione, tutto ciò per far fronte principalmente a quelle che sono le problematiche legate al tema dell'emergenza idrica, in cui praticamente nei pozzi a servizio del sistema acquedottistico di Solbiate Arno abbiamo assistito a un abbassamento del livello di falda che chiaramente ha comportato una riduzione dell'emulgimento delle portate.